Fiere e sagre firme, comuni ancora senza aver riattivato i mercati, amministrazioni in ritardo sulla sospensione delle tasse. Sono alcuni dei motivi che hanno portato ieri la categoria dei venditori ambulanti a chiedere ed ottenere con i rappresentanti della Regione Campania e del Lanci un incontro presso la Prefettura di Salerno, soddisfatto per l'esito della riunione il Presidente regionale Ciro Pietro Fesa. Diciamo che ieri c'è stata praticamente la nostra manifestazione che ha acceso un po' i riflettori su quelle che sono delle problematiche post-Covid ma già prima del Covid avevamo dei problemi che abbiamo evidenziato ai vari livelli istituzionali, Prefettura, Regione e Comune per chiedere degli interventi immediati per la categoria. Restano ancora dei comuni non tanto in provincia di Salerno quando nel resto della Regione? Ricordiamo che l'iniziativa di ieri era di profilo regionale dove i mercati non sono aperti. Abbiamo in varie parti della Regione mercati ancora chiusi, non si capiscono le motivazioni. Abbiamo chiesto l'intervento del Prefetto per quanto riguarda il mercato di Avellino dove il Sindaco ancora disattende una sentenza del TAR che praticamente gli ordina di riaprire il mercato e puntualmente stiamo ancora in attesa. Stamattina al TAR si discute l'udienza per quanto riguarda il merito di questa causa. Quanto riguarda invece la provincia di Salerno quali sono le note dolenti che restano ancora da risolvere? Più che note dolenti abbiamo chiesto di attivare il fatto di non far pagare la TOSAP perché attualmente molti comuni l'hanno differita, altri comuni che la stanno già chiedendo. Ne abbiamo richiesto di aspettare fino al 31 ottobre in attesa anche del decreto nuovo che uscirà che dovrebbe esonerarlo. Poi ovviamente abbiamo acceso un po' i riflettori anche su quella che è un'altra problematica della categoria e cioè le fiere e le manifestazioni. C'è una percentuale di nostri operatori che è una percentuale abbastanza alta che non lavora da dicembre. Quindi abbiamo chiesto il ripristino di manifestazioni, fiere e quant'altro. È ovvio che non si faranno più come prima, si faranno diversamente ma basta farle. Oltretutto abbiamo richiesto nel caso in cui non fosse possibile fare tutto ciò. Abbiamo chiesto il posizionamento di questi banchi in luoghi di passeggio perché noi parliamo di torroni, caramelle di questi prodotti qua. Ovviamente non li possiamo trasportare in zone periferiche della città. Siete dati un altro appuntamento? Come vi siete lasciati? Il prefetto ci ha dato sicuramente la possibilità di fare un ulteriore appuntamento con lui per parlare di banche, di accesso al credito dagli operatori. Questo è molto importante per noi. Sicuramente faremo la richiesta per poter incontrare il prefetto che, devo dire la verità, ha dato sempre la sua disponibilità a seguire le problematiche della nostra categoria. La regione, tramite l'onorevole Piccarone, proprio ieri lui ha mandato tutte le nostre richieste al presidente De Luca e il presidente De Luca già sta provvedendo per darci qualche risposta, anche se, a dire la verità, in questi ultimi due anni le uniche risposte le abbiamo avuto proprio dalla regione che ha dato tanto alla nostra categoria. proprio per questo confidiamo nel presidente che ci dia ulteriori mano perché è l'unico che ci ha seguito. Ai comuni il sindaco Volpe ci ha dato ampia disponibilità a seguire le nostre problematiche e ci ha richiesto anche i nomi dei comuni chiusi per poter premere tramite lanci per una riapertura veloce. Ovviamente tutti quanti sono impegnati anche al ritorno della normalità per quanto riguarda manifestazione e fiera.